Altro errore che viene compiuto molto spesso è quello di utilizzare dei tag inutili quindi magari mettete la foto della vostra splendida colazione e partono gli hashtag buongiornissimo caffè oppure non lo so colazione hashtag cornetto bene ragazzi tutti questi hashtag non servono assolutamente a nulla ma anche per gli hashtag va fatto uno studio e c'è dietro tutta una ricerca che viene fatta per scegliere poi gli hashtag giusti per il nostro brand quindi il buongiornissimo che viene utilizzato da chiunque anche dalla casalinga che ha preparato la colazione per farla vedere alle amiche bene è un hashtag che è talmente correlato a milioni di post che a voi non serve a nulla perché poi il vostro post è solo una goccia nel mare